ciao a tutti ragazzi bentornati qua con un altro video che parla degli articoli di vice mi ha deciso di farlo leggere a me perché effettivamente il concetto che è intrinseco in questo articolo è che diciamo così se hai un qualcosa di alta visibilità e anche carta infrangente secondo vice appunto il titolo è questo ho scoperto che con un giubbotto catarin frangente può entrare gratis ovunque e ha ben deciso di farlo fare a me perché effettivamente il 90 per cento della mia giornata lo passo con una divisa addosso catarin frangente ed effettivamente come dargli torto quindi ho scoperto che con un giubbotto catarin frangente può entrare gratis ovunque si dice non mi viene il nome non mi viene il nome articolo di david allegretti ho sempre avuto il sospetto che con un giubbotto catarin frangente fosse la chiave di tutto e in effetti sono entrato gratis al cinema allo zoo e a un concerto dei coldplay e la gente che paga 5 milioni di euro per entrare per andare a vedere il concerto dei coldplay si sarà tagliata le vieni scommetto e adesso probabilmente visto che tutti leggeranno sta cosa qua la gente avrà un passo addosso che tu non potrai avere morale il mondo funziona a livelli le persone importanti hanno accesso ai posti esclusivi tutti gli altri devono pagare un sacco di soldi per farlo o limitarsi a starsene dietro le transenne ma per entrare gratis a tutti gli eventi un modo c'è devo solo fingermi una persona importante le persone che indossano giubbetti o giubbotti scusate perché da noi si dicono giubbetti bronca mancazzo il senso è quello che indossano giubbotti catarin frangenti sono importanti perché di solito aggiustano cose che nessuno si prenderebbe la briga di aggiustare sto leggendo briga e aggiustare insieme quindi veniva fuori una roba tipo braggiustare se vedi una persona con un giubbotto catarin frangente che supera una transenna e che oltrepassa un buttafuori dai per scontato che stia andando ad aggiustare qualcosa per qualsiasi giubbotti catarin frangenti sono la chiave di accesso al mondo intero o almeno queste quanto io il mio amico sean o sean dipende abbiamo abbiamo sempre pensato il giorno dopo siamo andati in un grande magazzino abbiamo comprato un paio di giubbotti catarin frangenti dei walkie talkie finti e ci siamo preparati alla nostra avventura abbiamo cominciato con un obiettivo abbastanza umile il cinema con indosso i nostri giubbotti catarin frangenti abbiamo oltrepassato con andatura decisa il tizio che stava all'ingresso e siamo entrati in sala è stato un gioco da ragazzi che poi non ho mai visto un giubbotto catarin frangente all'interno del cinema da noi c'è un tipo l'apologo scritto il nome del cinema e basta l'unico aspetto negativo è che dovevamo accontentarci di quello che stavamo che stavano proiettando ovvero office crema christmas party è bello office christmas party non conosco il discorso ha vinto 12 oscar ma quello non lo sa devo dire che però non era male anche se il brivido di essere entrati gratis potrebbe aver contribuito a questo giudizio era che era tempo di passare a cose più serie intanto sta venendo fuori la bora perché ho aperto due finestre di ocarlo c'è un ciclone sopra la mia testa lo zossi è rivelato una sfida più difficile anche se solo a livello psicologico scusate sto continuando a digerire siamo stati 15 minuti all'ingresso fumando una sigaretta dopo l'altra per mascherare la preoccupazione madonna che freddo cazzo che dirai chiudi la finestra effettivamente c'è ragione nessuno dei due credeva che saremmo riusciti a entrare non voglio esagerare ma oltre passare la biglietteria è stato un po il nostro sbarco in normandia alla fine abbiamo scoperto che il pericolo era tutto nella nostra testa dovevamo solo camminare oltre l'ingleso sono diventato cienese sean ha dirittura all'ivolto un disinvolto buongiorno alla tizia della bigliettelia non potevamo credere che fosse così facile una volta dentro abbiamo cominciato a sghignazzare a salutare i veri impiegati dello zoo anche le famiglie credevano alla nostra sceneggiata di tanto in tanto ci chiedevano a che ora chiudeva lo zoo o dove erano le scimmie e poi dice non lo so signora non lavoro qua magari qualcuno si insospettiva o si insospettava questo sono ah beh poi c'è una foto ovviamente io da qua non si vede un cazzo anche perché lo schermo dell'ipad è lucido e si vede in giro tutto quindi vaffanculo comunque sia il link è in descrizione c'è una foto di questo David penso questo sono io seduto vicino al recinto dei lemuri i lemuri sono i miei animali preferiti ma per qualche ragione quel giorno non se ne sono visti sono rimasto molto deluso una famiglia mi si è avvicinata credendo che lavorassi in quel recinto e mi ha chiesto quando avrebbero riaperto io ho risposto che avrei chiesto alla direzione di risolvere il tutto il prima possibile e ho usato il mio walkie talkie per sistemare le cose c'è un qualcosa nelle divise che genera una fiducia immediata le persone si fidano delle divise la maggior parte di noi obbedisce a chi indossa una divisa senza neanche pensarci con il passare della giornata io e Sean abbiamo acquistato sicurezza e ci siamo sentiti sempre più a nostro agio continuavamo a dimenticar continuavo a dimenticarmi di averlo indosso entrare in uno zoo era ben oltre le mie rose e previsioni per questo esperimento ma non sono uno che dorme sugli allori ma che cazzo sta facendo qua lo sto facendo yoga anche schifo ma non sono uno che dorme sugli allori era il momento di vedere fino a dove mi potevo spingere abbiamo provato a salire su un bus per turisti ma l'autista non se l'è bevuta a quanto par l'autobus era il luogo con il miglior servizio di sicurezza della città di melbourne abbiamo preso uber per tornare in città e Sean si è ricordato che quella sera c'era il concerto dei Coldplay perfetto arrivati allo stadio siamo passati ai giubbotti catarinfrangenti arancioni per amalgamarci agli altri lavoratori non si può dire che non ci adattiamo se devo essere onesto entrare non è stato facile c'erano un sacco di tornelli e porte ma non eravamo per niente nervosi quando avremmo quanto avremmo dovuto Sean diceva di sentirsi che saremmo riusciti a entrare e abbiamo anche immaginato che se le cose si fossero messe per il peggio al massimo ci avrebbero schedato ebbene dice poco e invece le cose non sono andate male siamo riusciti a entrare una volta dentro Sean ha scritto a un suo amico che era al concerto dicendogli di venirci incontro ovviamente secondo questo amico eravamo dei pezzi dei pazzi a cercare di entrare solo con i giubbotti catarinfrangenti e ha detto che avrebbe cercato di rimediarci dei pass a questo punto la storia avrebbe no offre scusate diverse interpretazioni plausibili e si può pensare che siamo riusciti a entrare grazie a questo amico ma comunque la simetta sono stati i giubbotti catarinfrangenti a portarci dai coldplay non ero un grande fan dei coldplay prima di vederli con il mio giubbotto catarinfrangente ma poi tutto è cambiato quando ho lasciato lo stadio nello stomaco mi sentivo una luce calda che però credo avesse anche a che fare con i gilet di plastica che ci ricoprivano che ci portavamo addosso ma che cazzo sto leggendo sono fatto come una mina non è vero addosso si va a far culo dei gilet di plastica che ci portavamo addosso il fatto che stavamo facendo una cosa illegale ma ti dà un pizzicolo a culo fare le cose illegali però beh in conclusione l'esperienza che l'esperienza ha dimostrato che avevo ragione non saprai mai come funziona finché non ci provi la vita offre occasioni che non ti aspetti grazie giubbotti catarinfrangenti sono entrato gratis in tre posti se c'è un consiglio che mi sento di dare è questo comprate un giubbotto catarinfrangente è tutto ciò di cui ho bisogno nella vita segui david su instagram e twitter segui sean su instagram vai se buonanotte al cazzo io in effetti non è che ho mai dato importanza alla gente che ha su dei giubbotti catarinfrangenti anche perché poi è gente che gli si ferma la macchina in mezzo alla strada non vedo più un cazzo perché ho guardato la luce oppure voi gente in un cantiere però effettivamente ti metto addosso un giubbotto quanti proiettili senti un giubbotto catarinfrangente entro in un cantiere bene o male penso che potrebbero prendermi per uno di loro anche se effettivamente da queste parti non si vedono tanti cantieri con persone con giubbotti catarinfrangenti e caschetti soprattutto prove ed effettivamente dal mio punto di vista di chi indosso una divisa catarinfrangente è che è vero perché effettivamente io che ho a che fare con gli ospedali eccetera eccetera nessuno mi ha mai detto tu chi sei dove vai perché effettivamente c'ho addosso una divisa con un esculapio dietro e nessuno si è mai posto il problema di dire ma chi è dove va cosa fa cosa vuole fare cosa eccetera niente perché appunto negli ospedali gira tanta gente con addosso un giubbotto più o meno uguale però diverso e quindi uno non ci fa neanche più caso no io giri libero per l'ospedale ma allo spaccio anzi mica allo spaccio mi hanno fatto pure lo sconto dipendenti dell'ospedale ma non lo sono vai nelle porte dove non puoi accedere c'è scritto accesso solo al personale arrivi lì suoni manco ti dicono chi cazzo sei aprono e entri sono entrato una volta beh era per salutare una persona che conoscevo nel blocco operatorio dove c'è un bellissimo divieto di transito e nessuno ha detto ah boh giri per i corridoi interni le scale interne non aperte al pubblico ascensori mica ascensori e nessuno dice ah effettivamente non ci ho mai pensato effettivamente perché ho detto ma vedono che sono una persona qualificata in quello che faccio quindi chi se ne frega però penso che se te be in un ospedale con addosso un giubbotto tipo da macchina cioè con le due bande gialle con le due bande catarin frangenti penso che magari una domanda se la fanno però non lo so bisogna provare effettivamente anche al supermercato mi è capitato sono andato a prendere una roba da mangiare perché ovviamente avevo fame arrivò lì con il mio bel panino alla cassa no c'erano 4-5 persone davanti una gentilissima signora si gira fa ah beh passa passa non c'è problema te che sei dell'ambulanza passa ecco grazie peraltro grazie davvero effettivamente può essere un passepartout però sappiate una cosa che se vuoi indossare una divisa te la devi sudare pezzo di merda ok? e questo non lo dico io l'ha detto come si chiama quel film lì? vabbè c'è sto qua no? che con il suo amico si vestono come dei poliziotti per andare a una festa in maschera e li hanno riconosciuti come poliziotti e lei ha detto cazzo lo facciamo davvero? hanno preso una macchina no? da un in giro a fermare la gente eccetera e c'è questo qua che gli ha detto non è semplice indossare una divisa te la devi sudare ed effettivamente non può essere più chiaro e lineare però finché non so entrare gratis allo zoo sti cazzi voglio dire però se vuoi fare qualcosa di diverso te la devi meritare quindi fate la scelta giusta comprate il giubbotto catering frangente giusto con i loghi giusti eccetera eccetera e detto questo null'altro da dire se non che niente basta non ho più nient'altro da dire può essere veritiera come cosa bisognerebbe provare quindi detto questo ci vediamo la prossima puntata della vita fumatore stati bene ciao a tutti ciao ciao